Il Movimento 5 Stelle oggi dà il meglio di sé. Dopo le esternazioni deliranti di ieri di Toninelli che accusava la Lega di un accordo sotto banco con il Partito Democratico, oggi lo stesso Toninelli chiede al PD un accordo per eleggere i giudici della Corte Costituzionale. Insomma questa è la doppia morale a 5 Stelle, dove quando la loro bramosia di potere e di poltrone viene a galla i loro accordi non sono più inciuci ma diventano grande dimostrazione di onestà verso i cittadini. Mi sembra che dal patto del Nazareno siamo passati al patto di Giuda, ovvero il patto di coloro che tradiscono i cittadini dicendo una cosa e facendo l'esatto opposto. Noi rimaniamo coerenti sulla nostra posizione e quello che diciamo alla gente è quello che facciamo all'interno del Parlamento.